Bruno Contrada deve essere reintegrato nei ranghi dell'amministrazione della pubblica sicurezza e deve percepire le cifre non corrisposte nei 25 anni di interdizione dai pubblici uffici. È questa la richiesta contenuta nel documento di diffida presentato dagli avvocati dell'ex capo della squadra mobile di Palermo e destinato al Ministero dell'Interno e all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Una cifra di diversi milioni di euro, quella da liquidare all'ex numero 3 del SISDE, al netto di quella che sarà poi la richiesta di risarcimento per l'ingiusta detenzione. L'avvocato Stefano Giordano. La sentenza elimina completamente gli effetti penali. Fra gli effetti penali della sentenza, Contrada, che nulla da questo punto di vista, cioè non produce alcun effetto giuridico, vi era anche la sanzione dell'interdizione dei pubblici uffici. Contrada avrà diritto a quel trattamento retributivo e pensionistico che non gli è stato dato per 25 anni. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha revocato la condanna a 10 anni inflitta all'ex numero 3 del SISDE, accusato di concorso in associazione mafiosa, scrivendo di fatto la parola fine per un iter giudiziario iniziato 25 anni fa. È senz'altro una sentenza libera e coraggiosa, libera da pregiudizi, libera da incrostazioni, serena. Leggeremo poi chiaramente le motivazioni, ma non è difficile comprendere quale sia stato comunque il percorso logico che abbia portato la sentenza della Cassazione a questo. Si tratta di un ricepimento, non critico, ma critico della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha stabilito già che i fatti contestati dal contrada, il contrada stesso, non doveva essere né processato né condannato.